Serviamo gli asparagi selvatici, dopo aver raccolto gli asparagi, gli asparagi selvatici, per metterli in conserva abbiamo bisogno di togliere la parte più dura sotto, eccola, in questo modo. Mettiamo l'aceto in una pentola, aggiungiamo il sale, mescoliamo, accendiamo il fornello e lasciamo riscaldare fino a ebollizione l'aceto. Appena comincia a bollire, mettiamo i nostri asparagi. Facciamo in modo che l'aceto copra gli asparagi. Chiudiamo la pentola con il coperchio e portiamo nuovamente a bollitura. Facciamo bollire l'aceto con gli asparagi per circa 3 minuti. Trascorsi i 3 minuti spegniamo il fuoco. Facciamo scolare. Copriamo gli asparagi scolati con un nostro finaccio da cucina in cotone e lasciamo riposare per tutta la notte. Dopo aver fatto riposare tutta la notte gli asparagi e fatti scolare per bene, andiamo ad invasare. Prendiamo gli asparagi, avvolgiamoli leggermente e mettiamo nei vasetti. Fate attenzione che gli asparagi rimangono sotto al bordo. E circa 2 centimetri all'orlo sopra. A questo punto ricopriamo con il nostro buon olio d'oliva gli asparagi. L'olio deve ricoprire gli asparagi. Avvitiamo i parattoli e conserviamo i nostri asparagi selvatici sott'olio in un luogo fresco e buio.